Bene, Namaskar. Namaskar a tutti e buona domenica. Oggi guardiamo insieme alcuni insegnamenti delle Upanishad, più precisamente della Tahiti Ria Upanishad, che parla un po' di alcuni testi che mediamente nel nostro yoga moderno poco si affrontano. Mediamente un praticante yoga, quando si affaccia un po' allo studio dei testi classici, quasi sempre contempla Yoga Sutra, Patanjali, piuttosto che la Bhagavad Gita, piuttosto che Garanda Samhita, Shiva Samhita o i vari Darsana della tradizione. Le Upanishad, che fanno parte dell'essenza, chiamata anche dei Veda, il grande compendio del sapere indiano, e non solo, direi universale, hanno lasciato proprio dei meravigliosi, stupendi insegnamenti sulla vita, sulla vita pratica, sulla vita yoga, che ci aiutano a capire un po' che direzione dare al nostro yoga, quindi a una pratica yoga fatta per il vivere, non esclusivamente per gli esercizi o di tecniche. Vi faccio degli esempi, ci sono molti testi, come ad esempio il Garanda Samhita o l'Hatha Yoga Pradipika, che più che altro sono dei precetti, delle procedure, delle indicazioni, non sono dei veri e propri insegnamenti, cioè se noi leggiamo quei testi abbiamo una serie di cose da fare, di pratiche, di tecniche, da seguire per ottenere un certo stato. Mentre in altri testi, di cui credo di occuparmi nei prossimi anni, si sviluppa il meraviglioso insegnamento della pratica, dello yoga. Quindi non solo le basi fondamentali che molti di voi già conoscono, o comunque chi segue la tradizione di Yoga Sutra, conosce come Yama Niyama, i precetti e le osservanze, ma ci possiamo addentrare in quelle che sono i testi sacri dell'induismo, in questo caso universali, quindi senza una particolare pendenza. Ovviamente abbiamo nella tradizione, in questo caso dell'Upanish, da qui oggi vedremo la Taitiri Upanishad, termini come Brahman, come Vayu, come Yoga, ovviamente, che molti di voi conoscono, e cercherò di leggervi la parte scritturale in sanscrito, quindi quella non commentata da nessuno, dove nessuno di noi può mettere un suo modo di vedere l'insegnamento, perché questo è un altro dei problemi, ovviamente, esistenti oggi al mondo, nel senso che i veda si basano sul sanscrito, il sanscrito viene poi tradotto, e in base alla traduzione dei vari maestri, dei vari passaggi, si possono avere delle eventuali, così, non dico differenze, ma comunque, il neofita, chi si avvicina, diciamo così, alle scritture, all'inizio può avere qualche difficoltà di comprensione. Oggi vediamo la traduzione classica, prima la recitiamo in forma di, appunto, mantra, di sutra, che riguarda un po' tutto quando ci si avvicina all'Upanish in quanto recitazione di mantra. Abbiamo delle componenti di insegnamento, delle componenti, se volete, di preghiera, passatemi questo termine, delle componenti di precetti da osservare, e si elencano diversi aspetti che possono essere utili, ovviamente, al praticante. Andiamo nel vivo. Oggi vi ho portato un passaggio della Thaitiri Upanishad, che in sostanza cosa fa? Elenca i diversi insegnamenti della composizione dell'universo, tra cui l'essere umano, che è composto dai cinque elementi e via dicendo. È abbastanza lunga. Ma poi a un certo punto chiude, o quantomeno continua, dicendo, dopo aver insegnato il contenuto dei Veda, il maestro impartisce queste istruzioni ai suoi studenti. E quindi l'Upanisha si apre in questo modo. E ora ve la recito e poi guardiamo in italiano la sua spiegazione, che è molto sintetica, molto facile da capire. La prima parte e ci dice, come vi ho annunciato prima, il maestro impartisce queste istruzioni agli studenti. Dite sempre la verità, praticate il Dharma, non commettete errori durante la lettura o la trascrizione dei testi, ricompensate il maestro l'insegnamento, non lasciate che la vostra discendenza si esaurisca, non siate trascurati riguardo la verità, non deviate mai dal Dharma, non mettete a repentaglio scioccamente la vostra vita, non trascurate di compiere le attività propizie, non trascurate l'apprendimento dei Veda, delle scritture e quant'altro. Poi procede. Con sraddhya deyam, asraddhya deyam, sriha deyam, diha deyam, viha deyam, samvidha deyam, atayatide karma vichigitsa, vavritta vichigitsa, masyata, ee tattabrahmanā asam marushinaha yukthaha yukthaha halukchha dharmaka masyuhu yatade tatravarteran tata tatravarterta ha atabhyā akya deshu. ee tattabrahmanā asam marushinaha yukthaha 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 halukchha dharmaka masyuhu yatate teshuvarteran tata teshuvarterta ha esha adesha ha, esha upadesha ha, esha vedo panisha te, e tattabrahmanā asanam evam upasitavviam, evam uceta dupassiam. Dice, non commettete errori o mancanze nei vostri doveri, quindi nelle nostre responsabilità, verso i deva e i pitri, ora vediamo cosa sono. Onorate sempre la madre, il padre, il maestro e gli ospiti, nello stesso modo in cui onorate le scritture, gli insegnamenti, lo yoga, le divinità, il vero, il sacro. Dedicatevi soltanto ad attività irreprensibili ed evitate tutti i lavori che sono appunto condannabili. Evitate ogni azione irreprensibile anche in privato, quindi non solo in pubblico, ed è la parte che ovviamente sappiamo essere quella più complessa. Offrite un seggio ibramana che sono maggiormente degni di lode. Ogni offerta deve essere fatta rispettosamente con generosità, abbondanza, con un atteggiamento modesto, umile, attento, amichevole. Se doveste avere dei dubbi riguardo ai vostri doveri o al modo di comportarvi nella società o nella pratica yogica, ricordate le qualità e le attività prescritte per ibramana. Seguite l'esempio di ibramana qualificati, intelligenti, dipendenti, compassionevoli, virtuoso. Se doveste trovarvi di fronte a persone accusate, se vi viene richiesto di agire come giudici ad esempio, o in sostanza di prendere delle scelte davanti a un problema, ricordate le qualità e le attività prescritte per ibramana. Seguite l'esempio di ibramana qualificati, intelligenti e virtuosi. Queste sono le istruzioni da seguire. Questo è il segreto dei Veda e la missione suprema. Questo è il modo in cui bisogna meditare. Cosa dice questo passo? Rispetto a quello che dava nella Tahitiriya Upanishad precedentemente, che noi non abbiamo visto perché è molto lunga, è una sorta di rettazione, diretto comportamento che solidifica il praticante nella sua veridicità. Quindi una sorta anche di haims, non violenza, richiamate in sostanza gli yama ni yama del Sutra di Patanjali. Di base la Tahitiriya Upanishad chiama lo studente, il praticante yoga o il ricercatore spirituale, prima di fare pratiche destra e sinistra, mettersi a fare mantra, tecniche o qualsiasi altra voglia di soluzione per uscire da uno stato non piacevole della propria mente, gli suggerisce di porre le fondamenta. Quali sono la fondamenta? Il Dharma, il Satya o se volete il nobile sentiero, se vogliamo abbracciare un po' la filosofia buddista che non è dissimile da quell'induista se non per alcuni aspetti che magari andremo a vedere più avanti, spiega come pulire la nostra mente da stati negativi, insomma, in sostanza. Quindi ci sono degli antidoti o delle soluzioni da inserire nell'atteggiamento mentale per cambiare la struttura pensiero e portarla a soluzioni di serenità e felicità. Questo è yoga, qui si parla di yoga. Tra le parti ovviamente ci sono degli esercizi fisici per chi fa delle asana che introducono una serie di benefici, punto, perché non è sufficiente. Il praticante yoga moderno, ahimè, è fermo, molto fermo in quello spazio. Però bisogna iniziare ad indagare la natura della propria mente, inserire nella vita un significato profondo, renderla spirituale, perché di questo si tratta, altrimenti il tempo è veramente, veramente perso. Procede e conclude con questo che poi è un'invocazione finale e recita così. O, ricostruito l'astrofa finale. Chiude con Shanna Mitra Shanna Varunaha Shanna Bhavatvaryama Shanna Hindro Brhaspati Shanna Vishnururukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Dice, che chiama in campo alcuni deva, che hanno il loro significato. Che Mitra ci sia propizio, che Varuna ci sia propizio, che Arayaman ci sia propizio, che Indra e Brhaspati ci siano propizi, che Vishnu ci sia propizio. Offriamo il nostro omaggio al Brahman, che è il tutto, che è il sacro, che è l'inizio senza inizio. Immaginate l'eternità per l'indu è il Brahman, che però spesso e volentieri prende anche forma umana, cioè prende corpo. Come il Buddha è una persona fisica, non è un deva, quindi non è un essere celestiale, ma è una persona fisica che ha lasciato l'insegnamento ad altre persone fisiche, così può essere visto il Brahman dell'Upanishad, il manifesto eterno, energetico, ma anche persona, forma, in questo caso si chiama Virat, che poi lo andremo a vedere magari più avanti, ha delle sue parti e dell'essere umano, di base siamo noi, però inconsapevole di esserlo. Quindi lo yoga è quel sistema che rende consapevole l'individuo dormiente della sua stessa realtà. Quale? Quella di cui stiamo cercando di parlare in questa Upanishad. Procede con le offerte finali. Offriamo il nostro omaggio a te. Per offrire il nostro omaggio non si intende un fiore, non si intende qualcosa di immateriale, si intende l'attenzione, il rispetto, il portare la nostra mente che ha migliaia di desideri, che ci porta ovunque, portare quel desiderio verso la verità, verso l'insegnamento, cioè verso il sacro. Questo è anche una forma di omaggio. Poi ovviamente ci sono gli omaggi anche di una certa natura quando stiamo parlando di una cerimonia o di un rituale o di altre pratiche. Dicevo procede con offriamo il nostro omaggio a te, Vayu, il vento, il vento in quanto energia del Brahma, che appunto sei il Brahma immediato e diretto. Ti chiamerò Dharma e Satya, ovvero rettazione e verità, e chiedo la tua protezione. Che il Brahma protegga me, cioè l'insegnante e lo studente. Om Pace, Pace, Pace. Quindi qui si chiude la Tai Tiri Upanishad, dopo aver dato degli insegnamenti iniziali, da quello che sono i pericoli, quindi la mancanza di umiltà, la mancanza di compassione, se vogliamo, e di rettazione, è una sorta di inquinamenti mentali che impediscono poi il praticante, anche sincero e volenteroso, che si sta applicando in una disciplina yoga, di ottenere qualche discreto successo. Per successo si intende uno stato piacevole e calmo della propria me, soddisfatto della propria mente. Oggi come oggi le nostre soddisfazioni avvengono esclusivamente per ciò che nel mondo materiale non riusciamo a produrre. Quando questo ha un suo senso, noi ci sentiamo bene. Quando non riusciamo, oppure ci sono delle complicanze, ecco che siamo a livello mentale disturbati o afflitti. Bene, lo yoga si deve inserire qui per cercare come non essere afflitti, nonostante i nostri desideri materiali non vengono costantemente soddisfatti, perché ciò è impossibile. E quindi piano in piano lo yoga ti porta a modulare il reale desiderio per portarti verso la via, cioè verso il percorso o verso, se vogliamo, uno yoga di natura più spirituale. E' lì che inizi a fare lo yoga, come si dice, unire l'ignoranza, portarla verso la conoscenza della tua propria vera natura. E per vera natura non intendo un essere celestiale dentro di te che ti abita, intendo scoprire come mai la tua mente è colpita, la nostra mente, che io sono come voi, la nostra mente è colpita da stati perturbati o chiamati negativi. E qual è la causa? Come togliere, quindi come eliminare la causa, producendo invece delle cause che producono degli stati piacevoli, sereni, estatici, soddisfacenti della propria mente. Il passaggio dello yoga è tutto qui. Se non viene visto, capito, le persone praticanti rischiano di passare molto tempo a fare qualche pratica, che sia meditazione, che sia di altra forma di yoga, senza capire la realtà di cui lo yoga si basa, cioè dove dobbiamo mettere le mani, la testa, il cuore e quindi la nostra attenzione. Rischiamo di fare sempre un sacco di cose, quando le cose finiscono c'è un momento di ripensamenti, poi nuove cose da fare. Non so se vi siete accorti che la vita dei noi esseri umani, praticanti e non praticanti, è fatta così. Si fanno cose, si gioisce delle cose, finiscono, si sta un po' con le mani in mano, siccome che poi ci annoiamo, si rifanno cose. Questi continui desideri, queste continue cose, 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 non hanno fine, non so se vi rendete conto, non c'è fine. Voi non avete una... noi non abbiamo, con questo modo di pensare, una meta fissa. Dobbiamo continuamente creare mete, 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 scopi, 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 desideri, desideri, desideri per sentirci vivi. E quindi passiamo la vita così, fino all'ultimo respiro. Non c'è fine, cioè non c'è una soluzione reale in questo modo di vivere. Nella pratica yoga, come quella buddista, come in tutte le religioni, le filosofie serie che portano l'uomo ad evolvere, non a fare gregge, si cerca di far individuare a questo individuo dormiente qual è il desiderio primario che può portare a quello che si chiama liberazione da questo ciclo infinito di cose da fare, che poi sono nascite e rinascite, stesse azioni meccaniche in continuazione da fare. Se non c'è dentro di noi proprio una condizione di comprendere questo passaggio, e vabbè, il tempo sarà nostro amico. Qualcosa succederà per farci scattare qualcosa dentro e farci riflettere e motivare sul fatto che la nostra vita si basa su ripetitività, inseguimenti di sogni costanti. Una volta raggiunto un sogno lo si gode per dieci minuti, dopodiché sparisce la sensazione piacevole, siamo in attesa, non possiamo stare in quella condizione di vuoto, e quindi cerchiamo di nuovo un nuovo sogno da realizzare, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio dire, questo è il vivere comune. Ma se qualcuno si accorge di che cosa serve a cosa serve lo yoga, cioè creare quel sogno realizzativo che però una volta che vai a prenderlo, che vai a viverlo, mette fine a tutti gli altri, cioè ti fa capire che in realtà continuare a correre, a correre, a correre, inseguire cose che si consumano, poi devi ricercarne altre, in realtà logora, è molto logorante, e soprattutto provoca molta sofferenza, poca, media, tanta. Perché provoca sofferenza? Perché nulla che puoi ottenere in questo mondo può rimanere con te per sempre. Nel tuo corpo, nei tuoi amici familiari, nelle condizioni esterne a te, non c'è nulla a questo mondo che può rimanere con te per sempre. Questo fatto inconscio, di cui la maggior parte di noi non è consapevole, procura veramente un senso di inadeguatezza, di instabilità e incertezza, che si tramuta poi in una lieve o grande sofferenza interiore d'animo. Quindi cerchiamo di tappare i buchi di questa vita con tante cose che possano mettere a tacere la nostra sete di reale sensazione di benessere interiore, di vitalità, di gioia. Bene, le vie spirituali, filosofiche, da tempi remoti a oggi, indicano come cessazione di questa ansietà dell'essere umano di trovare pace e gioia nel mondo esterno attraverso delle vie di conoscenza di che cosa sei tu, di cos'è il mondo, di cos'è tutto ciò che ti circonda, compreso il tuo corpo, perché il nostro corpo ci circonda. Cioè è avvolto all'interno, c'è qualcuno, c'è qualcosa. Va bene, poi la possiamo chiamare mente, sé, divinità, ognuno poi può trarre in base alle sue idee quello che è. Ma di base è interessante vedere come i testi sacri e soprattutto le Upanishad che sono un po' più svincolate dall'aspetto dell'ignoranza ancora che pervadeva alcune parti dei Veda antichi, per ignoranza intendo una forte dose di dualità, quindi tu separato da qualcosa che devi raggiungere, mentre nell'Upanishad si tende a unificare questa idea e a dare all'individuo responsabilità, conoscenza, investigazione, quindi meditare ma in modo anche analitico-investigativo, non solo devozionale o per fede. O recitando una preghiera, pensando che vada tutto bene e qualche Dio lassù ci penserà. Nell'Upanishad abbiamo anche questo aspetto, ma fortemente l'aspetto di responsabilizzare il praticante, farlo ragionare bene, quindi ben pensare, quindi il mantra è lo strumento per ben pensare, riflettere sugli insegnamenti e dagli stessi insegnamenti riflettuti trarne il nettare della gioia, cioè la comprensione della mente che si espande a comprensioni sempre maggiori, fino a raggiungere la vacuità che poi sarebbe il samadhi della pratica yoga o la vacuità dei buddhisti, cioè che nessun fenomeno esiste di per sé, se lo vai a investigare profondamente, profondamente, sparisce, si dissolve, questo ce lo dice anche la fisica quantistica, che indagando l'atomo fino all'ultimo passaggio si dissolve, non rimane che il nulla. Questa vacuità o questo samadhi la possiamo considerare l'uno, va bene, l'unità. Ciò che noi ricerchiamo profondamente anche quando facciamo le cose più banali, quando facciamo le cose più banali, noi ricerchiamo la pienezza dell'unità e lo cerchiamo nella dualità, cioè nelle cose col mondo. Ecco perché non c'è fine a questo passaggio. Finché io ricerco, finché io faccio una cosa per ottenere uno stato interno, faccio una cosa chiamata esterna, quindi continuo a fare cose di questa natura, non metterò mai fine alla ruota del samsara. Perché? Ma perché non è possibile per logica trarre una totale, completa soddisfazione da questa vita solo nutrendosi degli oggetti, dei nostri sensi o dei desideri. Vi ho fatto l'esempio prima. Quindi le Upanishad tendono a farti scollare dalla tua normale visione di percezione delle cose di cui ti nutri per farti capire che cos'è quella cosa che si nutre dell'oggetto circostante a te, ti fa esaminare l'oggetto circostante a te, ti fa capire che c'è oggi ma non c'è domani, che può cambiare dall'oggi al domani, che non è sempre uguale, che l'oggetto ti può dare una soddisfazione per dieci minuti, dieci giorni, un anno, poi finisce, e cerca di farti capire qual è la linfa principale da cui trarre il reale beneficio. Quindi tutti gli yoga di base puntano a questo scopo, o tutti gli insegnamenti, o tutte le filosofie, o tutte le religioni. Quindi sarebbe questa l'idea di introdurre il praticante dello yoga moderno a conoscere quello che è appunto il sistema dello yoga o, se vogliamo, dell'insegnamento spirituale. Io oggi ho molto tempo a disposizione, cosa che non capita spesso, ma dove mi trovo è una giornata piovosa, quindi possiamo permetterci di visionare brevemente la Brahman Davalli, che è un proseguo della Taitiria Upanishad, che elenca di nuovo anche qui degli aspetti interessanti che possiamo commentare. Io vi recito la parte scritturale sanscrito, poi la traduzione in italiano e laddove ci è possibile la commentiamo, o vediamo insieme, di aprire maggiormente il significato del testo. Allora, il testo inizia così. Om ci dice in questo passaggio Chi conosce il Brahman raggiunge la destinazione suprema. Vedete che ci leghiamo al discorso precedente. Per conoscere il Brahman significa conoscere quello di cui abbiamo parlato qualche minuto fa. E prosegue. Il Brahman è la verità, la conoscenza e l'infinito. Quindi con questi tre aspetti noi potremmo muoverci per tutta l'esistenza. A tenersi al vero, quindi possiamo richiamare in campo un Satya, il processo di introdurre la mente alla pulizia dei veleni mentali che sono quelli che vanno incontro Satya, va bene? Quindi la Vidya, ad esempio, l'ignoranza è un principio che va contro la verità e così come altri aspetti. Poi vi è la conoscenza e la conoscenza si ottiene attraverso gli insegnamenti, gli studi. Bisogna studiare e dopo aver compreso l'insegnamento trasferirlo nelle realtà delle cellule e degli atomi di questa mente che farà e genererà delle azioni virtuose. E poi la conoscenza dell'infinito come vacuità, come vuoto, come qualcosa di impermanente, ma con l'attaccamento che abbiamo noi avvicinarci a un principio, a un concetto, a un'idea di impermanenza è assai difficile. È bello raccontarlo, è bello parlarne dell'impermanenza, ma poi quando si manifesta tutti noi tremiamo, siamo scontenti, vogliamo le cose certe che rimangono sempre come vogliamo noi. Ciò non è possibile, questo va capito, questa comprensione si genera con lo studio, con l'insegnamento e questo ha già grande gioia, è proprio bello, è meraviglioso, anziché perdere tempo con un sacco di cose. Questo va conosciuto, perché poi questo ti porta alla destinazione suprema, che è un atto di conoscenza, non è un luogo, no? Molti sono interessati ai viaggi astrali, i corpi sottili, e vabbè, ognuno impiega il tempo dove gli pare. Noi ci troviamo qui in carne ed ossa con i nostri problemi da risolvere, i problemi si risolvono con l'insegnamento capito bene e praticato. Altrimenti non si risolve, perché l'umanità lo dimostra da tempo in memore, la mente, se non risvegliata, procede con le stesse azioni e quindi le azioni portano gli stessi risultati, stessi risultati e stessi azioni, si crea la ruota, quale? Il samsara, la ruota dei cicli di nascita e morta senza fine. Procedo, chi conosce il Brahman come ciò che esiste nell'intelletto, che dimora nello spazio supremo del cuore e si identifica con il Brahman onnisciente e gode simultaneamente di tutto ciò che è desiderabile. Da questo Brahman, che è questa profonda conoscenza spirituale, che è il Latman, venne prodotto lo spazio. Dallo spazio merse l'aria e similmente si manifestarono il fuoco, l'acqua, la terra, le piante, il nutrimento e l'essere umano infine. Perciò l'essere umano è il prodotto dell'essenza del nutrimento e il nutrimento è la sua testa. Ora qui entra il Virat, cioè descrive tutte queste cose che sono dei concetti, dei precetti se vogliamo, all'interno della figura fisica del corpo. quindi il nutrimento è la sua testa, il suo lato nord e il suo lato sud. Il sé è la coda che rende stabile il corpo. Ora da capire un momento per fare chiarezza. Vista così può essere un pochino offuscata o misteriosa la interpretazione che ma è vista da un altro punto di vista che stiamo cercando di guardare insieme può aiutarci a capire. Ve la riassumo brevemente. Da questo Brahman che è l'Atman quindi da questo universo infinito che è l'Atman il principio che sta anche dentro di te di me di un animale di un filo d'erba di qualsiasi cosa animata e non animata grazie a Dio l'essere umano è la forma animata che maggiormente può godere di questa realizzazione. Ecco perché dico la nascita umana è oro non ce ne accorgiamo la sprechiamo in cose veramente incredibili inseguiamo chimere non ci rendiamo conto veramente della nostra grande fortuna di esseri umani per realizzare il Dharma la via il senso della vita no no continuiamo a fare cose che ci intrattengono ecco una vita di intrattenimento io non so dove porta noi esseri umani riprendiamo quindi da questo Brahman che abbiamo detto è l'atma viene prodotto lo spazio dallo spazio emerse l'aria e similmente si manifestarono il fuoco gli elementi le piante il nutrimento e attraverso il nutrimento arriva l'essere umano perciò l'essere umano è il prodotto dell'essenza del nutrimento in quanto corpo fisico e il nutrimento è la sua testa è il suo lato nord è il suo lato sud il sé quindi adesso vediamo come abbinare questo sé il sé è la coda che rende stabile il corpo voi guardate gli animali quasi tutti gli animali hanno delle code guardate l'uccello guardate ma guardate un aereo guardate anche altre cose la coda che cos'è sembra essere il timone quella cosa che dà equilibrio riportiamola a noi che non abbiamo coda ma interiormente se non abbiamo contatto col sé con l'anima con la nostra vera coscienza o essenza siamo esseri in balia della mente destra sinistra vento ci porta ovunque quindi in questo caso si fa rimedimento al sé come un'ancora una percezione uno stato una confidenza con te stesso tale che ti imprime gioia serenità forza solidità questo è il timone o in questo caso qui chiamato la coda del corpo che rende stabile il corpo beh il corpo fisico è più stabile il corpo mentale è più stabile il corpo energetico tutto per corpo si intende no questo essere a contatto e a conoscenza di questo sé interno che ripeto non è un individuo un punto una forma è uno stato della mente quindi uno stato della mente che pian piano ha dissolto gli attaccamenti si è sciolta si è slegata guarda oltre e gode di ciò che è noi invece guardiamo alla punta del naso perché perché non siamo abituati a studiare bene l'insegnamento dello yoga magari facciamo una cosa così e poi la via la via yoga la pratica la via spirituale è leggere studiare conoscere imparare ovviamente praticare cioè sforzarsi di mettere in pratica ciò che si acquisisce se non studio cosa voglio fare io con lo yoga niente non posso fare un po' di vacanza un po' di di coso yoga quattro cose per il benessere rilassarsi perché cadrò di nuovo nella rete del momentaneo cioè se io uso questa meravigliosa disciplina per rilassarmi per farmi una doccia un bagno turco un po' di vacanze e una spa butto via il mio tempo semplicemente perché tornerò da quella situazione e tutto troverà come prima tutto è come prima quindi il vero cambiamento è individuale è attraverso la propria serietà e l'anelito il desiderio di conoscere come uscire fuori da una condizione insoddisfacente della vita che tutti abbiamo è inutile che ce la raccontiamo che siamo soddisfatti o non siamo soddisfatti le soddisfazioni che abbiamo oggi noi come esseri umani sono ahimè molto limitate perché? perché sono basate sugli oggetti materiali gli oggetti materiali sono basati sull'inconsistenza non possono durare nel tempo uguale sofferenza non gioia completa piccoli lampi di gioia quindi chi si contenta di vivere sempre un po' tra palude e acqua fresca va bene chi vuole sempre vivere nell'acqua fresca si è stancato di vivere nella palude ecco che per questo individuo forse la pratica è la via dello yoga di un certo tipo di yoga ovviamente può essere soddisfacente può essere una realizzazione procedo non vorrei dilungarmi troppo procede di nuovo il il brahmananda valli in questo modo che già a n navar dhant adhyati chabhutani tasma dattannata bucchat yati tasma atvay tasma danna rasamayat hanyantara atma prannamaya tenec tenec apurna savai sabrosa vidayeva tasse apurus avidatam aum vayan paru sabidah tasse aprana yevasira piano dac cina paccia apana uttara paccia akasha atman pete vip ciam prati shtata da pieza slocum bavati tutti gli esseri sostenuti dalla terra sono nati dal cibo anna vivono di cibo e alla fine ritornano a essere cibo per altri il cibo nacque prima delle della nascita delle creature perciò è considerato la medicina suprema coloro che onorano il cibo come brahman ottengono cibo in abbondanza poiché il cibo esiste da prima delle creature ed è medicina per tutti tutte le creature nascono dal cibo e crescono con il cibo il cibo viene mangiato e mangia le creature perché è chiamato mangiare oltre al corpo fatto di cibo anna maia descritto sopra esiste un altro corpo sottile fatto di aria o prano pranomaia che è contenuto nel corpo fatto di cibo anche questo sé ha forma umana e il corpo grossolano prende la forma di questo il prana è la testa la pana è il suo lato nord viana è il suo lato sud lo spazio il sé e la terra è la coda che rende stabile il corpo prima era il sé che era la coda che rendeva stabile il corpo adesso invece è la terra che rende stabile il corpo tralasciando i punti precedenti guardate la forma adesso la terra la solidità quindi il sé adesso si fa terra si fa carne si fa principio si fa realizzativo si fa responsabilità non si fa eterico sognatore qualcosa che appartiene una vita diversa che sta fuori dal mondo materiale no si fa qui e ora si fa praticamente nell'azione fisica si fa carne si fa quasi se volete mortale passatemi il termine anche se il sé è immortale ma all'interno dello stesso corpo ne permea tutte le sostanze a un certo momento il corpo finirà va bene per sua natura e il sé rimarrà nella condizione originale quindi è interessante qui vengono chiamati in campo alcuni aspetti il prana la pana che è il suo corrispondente quindi caldo freddo la polarità quella che poi si svolge nello ata yoga quindi le due polarità a età che formano la parola ata sono le polarità cosa sono le polarità sono la mente duale qui c'è qualcuno che vuole star bene qui c'è un oggetto che ti fa star bene adesso e poi non ti fa cioè poi cambia quindi la polarità è così ci sei tu c'è la cosa che ti fa star bene e ti fa star male quindi la polarità si instaura su questo principio tu che vivi e gioia o soffri rispetto a una condizione che si viene a sviluppare attraverso delle cause che partono da qua quando questa dualità a età si uniscono perché il sistema ata yoga è unire la con il ta ata unire per unire non significa abbracciarsi essere tutti felici amore universale queste robe vanno tolte dalla mente bisogna capire che per unione si intende la conoscenza di se stessi in quanto se in quanto se stessi non in quanto solo corpo o solo ciò che penso o ciò lo so che immagino perché queste sono caratteristiche della mente primaria io ho bisogno della mente universale la mente universale si coltiva ecco qui i passaggi precedenti con le conoscenze della pratica quindi con gli insegnamenti introduco nella mente egoistica nella mente ricca di agnana cioè di non conoscenza ricca di ignoranza ed egoismo che poi soffre di base perché una mente così non può altro che soffrire e tutti noi abbiamo una mente così ecco inserire gli elementi che possono cambiare la mente è yoga questo va va chiarito va va sostenuto poi va bene le Upanisha le scritture vanno studiate bene per ogni frase ogni riga dovrei fermarmi e spiegarvi esattamente va quando nomina vaio il vento bisogna capire che cosa si intende per vento perché se parliamo di un ambiente esterno beh lo sappiamo tutti che cosa sia il vento una parte interna invece vista da un punto di vista diverso è uno le correnti energetiche le correnti praniche legate anche al respiro ma soprattutto alle correnti di vaio della mente cioè la mente è volatile volatile si intende spesso si dice da scimmia ma in questo caso qui viene preso il riferimento vaio è che cambia va completando quando arriva il vento tutte le foglie si muovono si rimescola tutto non c'è un non c'è un punto fisso bene il punto fisso invece è il sé supremo è il guru interiore è la conoscenza di sé ma soprattutto lasciando perdere queste parole che possono essere per molti di noi solo concetti sono le sostanze di come ti comporti quindi i tuoi comportamenti sono i samskara sono le abitudini che tu hai inserito o meglio che hai inserito inconsapevolmente per una sorta di educazione culturale sociale evolutiva quando diventi consapevole più sveglio sei tu che inizi ecco qui il passaggio dello yoga no? spirituale sei tu che inizi a creare le abitudini quindi inserisci nella tua dieta il tuo cibo non è che vai a mangiare al ristorante e prendi quello che c'è fermi tutti io oggi cucino questo quindi io oggi mi preparo questo cibo e così vale per la dieta spirituale io oggi penso pratico sviluppo queste facoltà mentali questo impegno questo e voi capite che se praticate è lasciato solo così e non gli viene detto ciò e non viene aiutato se non siamo aiutati dall'insegnamento da un gruppo da un guru da quello che volete voi a sviluppare certe facoltà e noi da soli è un pochino più difficile ecco perché è importante conoscere studiare studiare proprio come si fa a scuola ma non studiare argomenti che sono pesanti non servono a nulla studiare argomenti come questi che servono a il rinascimento dell'anima quindi della verità che ci compenetra perché questo è meraviglioso è bellissimo avere il giorno occupandosi di questo è ovvio che noi abbiamo dei lavori diversi io ho la fortuna grazie a Dio di fare un lavoro occuparmi di un probabilmente i karma passati mi hanno portato qui ma questo non vuol dire potrei sprecare il mio tempo ugualmente potrei fare milioni di altre cose ogni tanto qualche cosa di yoga tu che magari sei dall'altra parte stai facendo un lavoro diverso la tua vita ti porta altrove però hai questo desiderio e hai solo 5 minuti al giorno va benissimo magari sono meglio delle mie 24 ore i tuoi 5 minuti se sono profondi sinceri seri se sei regolare se sei costante se sei veramente quindi il tempo è proprio una scusante come per dire questa cosa è da farsi solo per chi cia tempo non è vero il tempo ce l'hai ma quando ce l'hai lo butti via devi riconoscere che butti il tempo in cose pensi sempre andare a divertirti fare tazziare cose perché perché non hai ancora capito che il vero divertimento è nell'insegnamento il vero divertimento è nella pratica nella meditazione nella spiritualità questo è il vero godimento supremo se non lo hai ancora capito non ti preoccupare il tempo ti darà il giusto esempio ti farà scoprire questa necessità che molti l'hanno già scoperta e altri no non sto facendo differenza tra bravo e cattivo perché assolutamente non è questo lo scopo sto facendo una differenza di stato attuale della mente individuale dell'uomo ognuno è al suo tempo al suo punto vorrei procedere ancora sempre che non finisca non finisca il tempo e procediamo col verso 2-3-1 pranam deva anuprananti manusia pasavascaya pranohi bhutanamayahu tasma sarvosadamuchade sarvamevata ayurjanti pranam brahmupasade pranohi bhutanamayahu tasma sarvamuchatayati tashe saye vasari rahatmangya purvasya tasma dvaya tasma pranamayat annyantara atmanomayaha tenesya purna sarvayesya purusavidayevam tasya purusavidatam ahumvayam purusavidaha tasya yayurevashiraha redanunt cinappacca samuttara pacca adesya atman atarvangira sapucyan pratishtat adapiesa slocom bhavate qui vediamo i sensi agiscono seguendo l'energia vitale che risiede nella bocca tutti gli esseri umani gli animali sono uguali in questo perché la vita di tutte le creature dipende dal prana energia coloro che onorano il prana come brahman quindi voi vedete già solo da questa frase prana nello yoga si associa a pranayama respirazioni respirazioni dal naso tecniche e quant'altro però non si fa quasi mai riferimento al prana come oggetto devozionale di meditazione come come dire il respiro non ci dà granché è aria che entra che esce per lo yogi il respiro è bramma stesso cioè è un po' come il canto dell'om molti cantano l'om la sua riverberanza e la sua frequenza rilascia sensazioni piacevoli stati piacevoli ma pochi associano il canto dell'om in questo caso come anche la parola termine prana o pranayama esercizi di respirazioni a bramman bramma si intende il supremo il massimo il massimo stato come se il buddha va bene però magari non sei buddista non sai di cosa stiamo parlando allora la scienza della vita il miracolo dell'esistenza la cosa che non può neanche immaginare i sistemi sorali tutto quello che puoi immaginare è di più tutto quello che non puoi immaginare è di più tutto questo è il bramman dell'eupanisha bene in questo caso questo upanisha la bramananda valid dice che il praticante che fa esercizi di pranayama o che contempla il prana dentro di sé fuori di sé ma in questo caso ipotizziamolo all'interno crea anche delle visualizzazioni cioè porta alla mente a comprendere quest'aria che entra nel suo naso non solo come ossigeno e punto come appunto come il bramman eleva questa parte che in realtà è così non è che non sia così e quindi stiamo raccontando delle storie e le upanisha stanno così per tradizione esagerando nella descrizione delle cose è così siamo noi che abbiamo perso il senso sacro delle cose le abbiamo appunto stigmatizzate concettualizzate materializzate e quindi le abbiamo in qualche modo sminuite così sminuiamo la vita sminuiamo i rapporti sminuiamo il rispetto sminuiamo tutte le cose l'essere responsabile l'essere individuale il praticante yoga non perde tempo a leggere scritture che non capisce cerca e poi magari insegnarle cerca di comprendere di comprendere con l'aiuto di un sangha con l'aiuto di qualcuno che con lui sta facendo questa cosa in India c'erano si sa il maestro è fondamentale da noi in occidente ormai è una figura che è stata misticizzata troppo e addirittura anche fraintesa quindi per noi è un pochino più difficile forse per noi è più facile l'insegnamento come stiamo facendo adesso da testi che in qualche modo ci danno delle informazioni che però è bene aprire aprire significa permettere una loro realizzazione della nostra vita reale che ci serve perché se no non capiamo c'è una distanza eccessiva tra me la mia vita e l'insegnamento che appartiene a 2.000 5.000 anni fa in realtà l'insegnamento non ha tempo perché qui stiamo parlando di cose che non hanno tempo anche se sono datate stiamo parlando di un'esigenza primaria dell'essere umano qual è? è semplice vuole essere felice non vuole soffrire non ci sono altre esigenze per l'essere umano non ha ancora capito come fare ci sono ci sono inseguimenti dell'attricità in modo egoistico e quindi producono sofferenza a se stessi e agli altri ci sono modi per raggiungere lo stato felice della mente in modo altruistico e questo genera piacere immenso piacere a te e a tutti gli altri quindi l'eupanisa lo yoga gli insegnamenti le religioni le filosofie di base devono contenere hanno quelle che hanno valore hanno tutte questo punto in comune ovviamente ovviamente poi ognuno di loro prende una sua tradizione diversa su modo diverso vado a finire poiché il cibo esiste da prima della quello l'ho già letto prima chiedo scusa coloro che onorano ecco qui coloro che onorano il prana come bramma ottengono lunga vita perché il prana è la vita è la vita di tutti oltre al corpo fatto di prana descritto sopra esiste un altro corpo fatto di mente manumai che è contenuto nel corpo stesso anche questo se ha una forma umana poiché prende la forma del corpo di questo corpo mentale i mantra dello yajurveda sono la testa quelli del riveda sono il lato destro quelli del samaveda il lato sinistro le bramana sono il tronco e i mantra contemplati sono la coda stabilizzante ora in questo blocco in questo sloca di insegnamento abbiamo in riferimento le cinque guaine o coscia così chiamati il corpo fisico il corpo pranico il corpo mentale il corpo mentale ma con una capacità di indagine e comprensione diversa quindi il vignana maya coscia e poi abbiamo il corpo della beatitudine cioè lo stato felice lo stato sereno dell'essere quando gioiamo siamo nel corpo dell'ananda maya coscia molto semplice siamo in quello che è già dentro di noi e viene ottenuto quando ciò che lo ricopre non è inquinato se io ho una mente depressa oggi perché mi hanno rubato la macchina faccio un esempio quindi sono un po' depresso e ho mille problemi da risolvere il corpo dell'ananda maya coscia che io ho dentro di me quindi quella condizione estatica che io ho già viene oscurato da uno stato della mente perturbato che mi porta a risolvere il problema e mi crea una sofferenza cosa? mi hanno rubato la macchina se io sono in una giornata felice dove non ho particolari condizioni questo capita all'essere ordinario a tutti quindi anche a me anche a voi ovunque una giornata qualsiasi dove non ho grandi notizie particolari che possono portarmi in estasi ma non si sa come mai mi sento sereno felice appagato bene cosa sto facendo cosa sto vivendo il mio corpo di ananda maya coscia non perturbato da altre cose che nella mia mente potrebbero instaurarsi ora queste condizioni non sono permanenti vanno e vengono lo yogi praticante cerca invece la condizione permanente di ananda coscia di ananda come condizione interna di serenità e piacere e stabilità per farlo ha capito che non può lasciare la vita così come viene mi alzo al mattino perché la mente come il vento può oscurare o meno in base a tante contaminazioni che ha acquisito in questa vita e nelle precedenti può gettarti in uno stato triste in uno stato e poi tu da quello stato generi azioni azioni che non saranno benefiche e quindi crei ancora karma per un nuovo stato non piacevole e quindi in sostanza giri sempre in quell'area perché io inserisco la pratica yoga perché fa cuneo quindi rompe il meccanismo della mente viziata e egoistica soprattutto che crea sofferenza se stesso agli altri e che cosa succede succede che inizio a percepire di nuovo ciò che c'era c'è sempre stato e c'è anche adesso in tutti noi in me in te in chiunque lo stato di ananda lo stato piacevole della mente i buddhisti la chiamerebbero bodhicitta quindi lo stato di amore e compassione va bene quindi è interessante capire questi passaggi visti da questo punto di vista e poi prende riferimento i tre veda principali lo yajurveda rigveda chiedo scusa yajurveda il samaveda perché li prende come principali perché li porta queste forme sapenziali no che sono i veda li porta all'interno del corpo e dice la testa è il rigveda il lato sinistro è cioè simbolicamente dobbiamo prendere questa parte per farci capire che siamo sostanzialmente esseri spirituali esseri puri esseri predisposti perché la nascita umana è una grande predisposizione che ai messi butta spesso e volentieri in modo inconsapevole quindi la simbologia di questo sloca che chiama a figura del proprio corpo i veda i tre veda principali e poi i mantra e dice finisce con i mantra contemplati sono la coda stabilizzante avete visto che questa frase la coda stabilizzante è in tutti gli sloca prima c'era il sé poi c'era la terra e adesso abbiamo il mantra il che significa che è la tua i buddhisti chiamerebbero la presa del rifugio quindi io quando sono in una certa condizione mi rifugio sotto qualcosa sotto l'ala di qualcuno sotto anche in questo caso sotto la protezione dei mantra quindi vedete che la pratica diventa la mia protezione il mio guru e in questo caso è il timone quindi mi da mi dona stabilità mi dona una certa forza per continuare nella conoscenza delle scritture degli insegnamenti è meraviglioso inserirsi nel panorama iogico in questo modo crea linfa crea nettare crea conoscenza procediamo con il 241 il prossimo zlocas io tu vachoni vartante apra apyabanasasaha anandam rammano vidvam navivetika daschaneti tasye sa eva sarira atma yap purvasya tasma dvayet tasma anmano mayat annonyantara atma vinyana mayaha tenesya purnaha savayesya purusha vidayevam tasya purusha vidatam anvayam purusha vidaha tasya sriddeva shiraha ritam dakshinat paksha satyamuttara paksha yoga atma mappu champratishtat da piesa sloco bhavati diventa libero da qualsiasi paura chi conosce la felicità del brahman chi conosce chi non raggiunge il livello del brahman viene abbandonato dalla mente e dalle parole questo sé composto di sostanza mentale contiene a sua volta un altro sé interiore composto di conoscenza sperimentata e applicata vinyana anch'esso di forma umana sta facendo riferimento sempre a noi di questo corpo la fede è la testa la correttezza è il lato destro la verità è il lato sinistro la concentrazione è il sé o tronco e il principio conosciuto come Mahat il grande il supremo è la coda stabilizzante il principio conosciuto come Mahat sapete che c'è anche la parola Mahatma Gandhi eccetera eccetera grande quindi il principio di ognuno di noi quindi se ognuno di noi riesce a giungere a percepire lo stato della sua origine del suo principio non come corpo non come uomo donna non come bravo cattivo non come intelligente ignorante non come stato sociale io faccio il guru tu fai lo studente lui fa lo spazzino lui fa l'operaio non questo se uno riesce a giungere all'origine di se stesso quindi a conoscere chi è che cos'è quindi investigare per quello deve investigare per quello che c'è lo studio o anche le meditazioni o le pratiche per capire per conoscere ma non a livello solo intellettuale dico conosco perché ho studiato conosco perché ho realizzato quindi ogni studio va realizzato le realizzazioni sono tante sono tantissime ogni realizzazione ti porta in una scala più su in un piano più su ogni piccola 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 realizzazione di quanto studiato o di quanto ti capita nella vita rapportato all'insegnamento dello yoga ti porta sempre più su non avere dubbi su questo è certo quindi i riferimenti di nuovo della fede la testa la correttezza il lato destro gli aspetti simbolici di questi elementi sostanziali che dovrebbero costituire la natura della nostra mente va bene ce li rapporta di nuovo in un virat in una forma nostra fisica umana dicendo la fede nella testa non è che la fede nella testa o nella mano o nel cuore la fede è nello stato della tua mente tutto è nella tua mente in questo caso l'upanishad simbolicamente raffigurando gli insegnamenti i precetti le condizioni all'essere umano prende a simbolismo lo stesso essere umano e pone la fede nella testa la chiedo scusa la concentrazione nel lato destro la verità nel lato sinistro eccetera 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 e il mat cioè il principio originale lo prende come la coda stabilizzante abbiamo capito quando l'upanishad parla così abbiamo capito cosa significa la coda stabilizzante nessuno di noi è una coda ma si intende il timone si intende l'equilibrio si intende la direzione si intende l'ancora si intende la fiducia di sé si intendono tutti questi tipi di sinonimi procede di nuovo con lo slot siamo alla conclusione 2.5 vinyanam janam tanute karmani tanute picha vinyanande vassarve e brahma je sadumpastate vinyanam brahma chet veda tasmachena pramadyati sarire papanohitva sarvankamastamastudayati tasye saye vasarira atman yapurvasya tasmadyate tasmav vinyanam yat anion taratma manna mandaya teine sapurnaha savayesya paruja vidayevam tasya paruja vidatam anvayam paruja vidaha tasya priham evasira modo dacina paccia pramodda uttara paccia ananda atman brahma pucyan pratishtah tadapiesa sloko bhavati la conoscenza vinyanam è l'ingrediente fondamentale del sacrificio yajna ed è il compimento dei doveri karma poi li guardiamo bene insieme è nella conoscenza che i deva meditano sul brahma conoscendolo senza equivoci tutte le reazioni negative vengono distrutte e si gode pienamente di ogni cosa buona il sé cognitivo è se volete la mente è l'incarnazione del corpo mentale ma oltre al corpo cognitivo mentale esiste un altro sé interiore costituito da felicità pura e qui richiamate l'ananda la condizione di prima contenuta nel corpo mentale vedete che fa riferimento alla mente tutto è nella mente anche questo corpo di implicità ha una forma umana simile a quella del corpo cognitivo in esso la testa è la gioia il lato destro è il piacere e il lato sinistro è il divertimento l'estasi è il centro e il brahman è la coda stabilizzante quindi il brahman è la coda stabilizzante ma il brahman se la facciamo a ritroso quindi se facciamo a ritroso leggiamo a ritroso conoscenza del brahman significa estasi estasi significa divertimento piacere felicità e poi la gioia altro sinonimo di piacere di felicità quindi voi capite che leggere i testi leggere le scritture se non si ha una cognizione profonda del testo si rimane agganciati ai simbolismi che non si sa dove metterli non essendo la cultura nostra una cultura in cui siamo vissuti nell'era vedica siamo vissuti nell'era della tecnica noi va bene scientifica e quindi collocare tutti questi nomi nel nostro modo di essere è assai difficile mentre è molto utile riuscire a studiare questo che ci stiamo prefiggendo di fare insieme in questi momenti studiare l'Upanishad per portare a realizzazione all'interno del nostro vissuto e cercando di capire che la mente è la fondamentale costituzione delle cose essa va nutrita va conosciuta va anche in un certo punto domata passatemi il termine ma per farlo devo conoscere esattamente e soprattutto non solo questo soprattutto devo essere in un percorso devo essere con persone devo essere trasportato l'essere umano lasciato solo si spegne si perde ritorno nei suoi samskara cioè nelle sue vecchie abitudini ha un momento di buoni propositi e poi li perde li perde non perché è colpevole o perché è cattivo li perde perché è difficile dopo tonnellate di azioni che continuano in un certo modo così dall'oggi al domani cambiare trasformarsi facendo magari un corso di yoga da qualche parte che promettono ecco non crediate mai che in 4 e 4 8 si possa fare un lavoro serio per recuperare la nostra vera essenza ahimè la nostra vita è il tempo prestabilito per studiare per verificare per realizzare quindi non ci sono momenti in cui posso farlo e altri in cui vado a zonzo sì lo facciamo tutti ma in realtà quando capirò che la mia vita mi è stata concessa o ho questa vita non diciamo che ci è stata concessa ho questa vita per realizzare questo quando me ne accorgo e mi accorgo anche che la vita ha un tempo limitato questa lì vita fisica un tempo limitato probabilmente mi sveglierò un po' di più e quindi mi entrerò un po' di più nell'insegnamento seguirò una via non dico che diventerò un monaco o una monaca ma rimanendo dove sono da laico da attio da quello che sono da tutto da nessuno procederò verso il vero insegnamento della pratica yoga e lascerò tutto quello che in realtà non serve adesso nell'epoca attuale la maggior parte di noi praticanti si nutre di ciò che non serve e lascia ciò che è essenziale non è colpa di nessuno semplicemente questo è il tempo è il tempo del buio del Kali Yuga è il tempo il peggior periodo spirituale quindi c'è una sorta di deflessione delle realizzazioni ma anche in questo periodo cupo noi abbiamo i Dalai Lama noi abbiamo lo Yoga noi abbiamo gli Upanisha noi abbiamo i Veda noi abbiamo ancora qualche raro raro rarissimo maestro di insegnamento diciamo così che si attiene ai principi medici ma sono pochi sono rari e bisogna avere proprio la coincidenza di trovarli io credo che questo atto di coincidenza non sia proprio fortuito sia un desiderio della mente di ogni individuo quindi se la mente desidera veramente questo la mente cattura porta a sé i Dalai Lama i Sadhu i Guru gli insegnamenti le scritture i luoghi le circostanze le condizioni vengono a te ma se tu procrastini quindi sei sempre in giro a fare l'aperitivo e non ho niente di male contro chi fa gli aperitivi ma se siamo sempre a perdere tempo ad alleggerirci perché sembra che l'insegnamento sia una cosa pesante se siamo ancora in questa condizione ahimè dobbiamo soccombere soccombere significa continuare ad alzarci al mattino fare più o meno le stesse cose a rabattarci per trovare un briciolo di felicità nella giornata spegnerci la sera nel sonno il giorno dopo ricercare di nuovo questa condizione questo facciamo tutti gli esseri ordinari io tu noi facciamo questo però a un certo punto può nascere il desiderio di scoperta di qualcosa di più ecco questo qualcosa di più può essere una seria pratica dello yoga fatta come si deve e oggi come oggi è assai difficile trovarla perché sapete che finché parliamo di yoga moderno abbiamo difficoltà a scoprire queste essenze queste vitalità queste realtà che realtà di cui la realtà lo yoga parla oggi lo yoga pervenuto a noi e di cui ci nutriamo è assai pressapochista cioè è di tutto un po' di tutto un niente però ecco non voglio parlare di questo oggi volevo rimanere sulle Upanishad siamo a conclusione di questo di questo momento vediamo credo l'ultimo l'ultimo verso il chiedo scusa il 2 7 sì eccolo asadva idamagra asittato ve sadajayata tadamak nyosvaya makkuruta tasma tattsukrutam ucchatayati yadve tattsukrutam braso vesah razo yevay ladvanande bhavati koye vanya akat pranyate yadesha akash anandu nasyate yesha evayand yati yada yeyesa etta smindr nuseyat vieni kurute lilayane bayam pratishtam vindate atas bayangato bhavati yada yeyesa etas min dara mataran kurute atas yabayam bhavati tatue babayam vidusom bannassia tadapiesa sloko bhavati qui molto interessante vedere il passaggio all'inizio di tutto questo c'era soltanto il non manifesto e dal non manifesto emerse ciò che è manifestato cosa? è quello che vediamo attorno a noi il brahman creò se stesso da se stesso perciò viene chiamato nato da se stesso questo svayambu è la fonte della gioia perché chi entra a contatto con questa dimensione mentale prova una grande felicità nessuno in verità potrebbe ispirare o espirare se questa felicità non si trovasse nello spazio supremo all'interno del cuore e questa felicità ananda maya che dà entusiasmo alle persone quando un ricercatore spirituale si stabilisce fermamente in questa consapevolezza che trascende i corpi che non può essere percepita dai sensi ascoltate bene o espressa dalle parole quindi noi siamo praticamente perdendo tempo qui oggi eppure stiamo guadagnando tempo adesso vediamo di risolvere questo enigma o sperimentata teoricamente si libera per sempre ad ogni paura chi invece crea anche la minima dualità in questa consapevolezza diventa preda della paura il bramma stesso risulta terrificante per un uomo che possiede un'erudizione puramente teorica e manca della percezione o della realizzazione suprema perché ho detto che stiamo perdendo tempo ma in realtà no perché questo bramma questa condizione statica dell'essere non è assolutamente descrivire con la parola né con l'esempio né con l'insegnamento allora cosa stiamo qui a fare cosa 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 stiamo studiando cosa stiamo parlando beh stiamo comunque dirigendoci attraverso delle indicazioni di questo stato quindi questo stato realizzativo se volete lo stato del buddha lo stato del samadhi lo stato di realizzazione lo stato dell'illuminazione lo stato lo stato lo stato è uno stato non descrivibile con la parola quindi non è che uno ha una realizzazione e poi la descrive dice adesso ti dico com'è persino il buddha che conosce la storia del buddha lo sa a seguito della sua illuminazione passarono mi pare 40 giorni non vado errato non vorrei chiedo scusa a chi ne sa più di me prima